Oh! Prego, entri! Finalmente! Per favore mi aiuti! Non preoccuparti, fammi dare un'occhiata! Oh, non ha un bell'aspetto! Hai visto? Prendilo! Perfetto! Ora inseriamo la pompa e riportiamo tutto alla normalità! Tieni duro e gonfiamo! Si calmi, dottoressa! Wow, grazie! Le sono molto grato! Questa tosse non se ne va! Ho un'idea! Ehi, Poo! Aiutami! Troom trick! Oh, grazie! Questo va bene! Oh! Non lo faccia! Spero che questo ti faccia sentire meglio! Ora respira! Wow! È un miracolo! Troom trick! Oh! Catnap, smettila! Ok, ora va meglio! Puoi andare! Per favore! Andiamo, Hoppy! Aspetta, voglio ringraziare il dottore! Questo è per lei! Wow, che bello! Oh, Miss Delight! Come va? Per favore, mi aiuti! Deve far uscire Barb! Non si preoccupi! Casa? Alla ricerca dello strumento! Grazie! È affilato! Proprio quello che serve! Non muove, ti ci penso io! Ora la tiro fuori! Oh, aspetta! L'altra parte! Sì, ce l'ho fatta! Wow! La mia testa va meglio! Grazie, dottoressa! E ecco la sua mazza! Wow! Fantastico! Grazie mille! Prenda un dolcetto! Wow! Pollo fritto! Grazie, Miss Delight! Ehi, amico! Questo è per te! Mmm! Così nutriente! Mi sento già più forte! Oh, wow! Ti abbiamo fatto salire di livello! Wow! Congratulazioni! Anche tu mi hai aiutata molto! Oh, cos'è questo rumore? Aspetta! Chi ha bisogno di aiuto? Ehi, venite! Oh no! Quanti pazienti! Non muovetevi! Ho solo una domanda veloce! Ehi, ma c'è la fila! Dove pensa di andare? Torno subito! Ehi, Dog Day! Aspetta! Aus, per favore aiutami a rimuovere la trappola! Troom trick! Preso! Proviamo ad usarlo come leva! Ugh! Forza, apriti! Wow! Purtroppo non ha funzionato! Barba ti aiuterà! Troom trick! Ups! Sono di nuovo libero! Grazie! Ti regalo questo divertente robottino! Wow, grazie! Ehi, amico! L'hai visto? Fammi vedere! Mettilo sul tavolo! Certo! Oh oh oh! Bagliamo tutti! Fantastico! Abbiamo aumentato il livello di Pooh! Che bello! Congratulazioni! Chiamo anche gli altri! E tu sarai la mia nuova infermiera! Ti sta davvero bene, Delight! Oh! Che sta succedendo alla casa? Pozione rimpicciolente! Oh no! È terribile! Aiuto! Che dobbiamo fare? È terribile! Oh Barb! È arrivato il tuo momento! Dobbiamo togliere tutta l'elettricità! Oh! Oh! Sono stato beccato anch'io! Che dobbiamo fare? Dobbiamo scaricare la corrente! E io devo ricaricare il telefono! Perfetto! Wow! Si è fermato! Grazie Pooh! Ora aiuta Gioia! Prendi il telefono! Oh! Ricarica wireless! Buona idea! Davvero funziona! Ottimo lavoro infermiera Delight! Finalmente è finita! Oh! Ora va tutto bene! Sono felice che tu sia venuta! Lascia che ti abbracci! Ups! Dove sono andati? Troom trick! Per favore aiutaci! Ma perché ha due teste? Mi ha cresciuta una seconda testa e non so che farmene! Casa? Che dobbiamo fare? Un secondo Troom trick! E a che serve il laser? Oh! Guarda! Una luce! La prendo io! Vuoi un pesciolino? Dai seguimi! Oh! Luce! E il pesce! Miau! Voglio il pesce! Ehi! Non ti importa più della luce? Non esiste! Non interrompermi! Sto per prenderla! Oh! Sono libero! L'ho presa! Guardate! Buon lavoro cut-up! Continua così! Oh no! Abbiamo un problema! Oh! Casa! Oh! Non mi sento bene! Ti siamo così grati! Le parole non bastano ad esprimere quanto! So come puoi aiutarci! Ehi! Possiamo fare un accordo? Non preoccuparti! Ti spazzolerò il pelo! Quanto pelo! Wow! Spero che sia sufficiente! Ottimo lavoro, Delight! E ora puliamo le macchie! Spero che tu ti senta meglio! Sì! Molto meglio! Uh-uh! Stanno di nuovo tutti bene! Addio! Cosa? Oh! Così soffice! Aiuto! E se avessi la rabbia? Sembra un brutto morso! Esaminiamolo! Dobbiamo curare la ferita! Diamo un'occhiata! Oh no! Hai ragione! Più in fretta! Metti la mano qui! Va bene! Vediamo che cosa abbiamo! Ok! La radiografia è pronta! Oh! Guardi la scansione, dottore! Sembra che il polso sia ferito! Ma non c'è da preoccuparsi! È Miss Circle! For un trick! Oh! Che succede? Chieda alla dottoressa Poo! È ora di aggiornarsi! Cosa? No! Miss Poo? Tieni duro! Questo farà male! Oh! Ancora qualche punto! Ma quanto tempo ci vorrà! Puoi rilassarti! È fatta! Wow! È incredibile! Dottoressa, lei è la migliore! Ecco! Prendete questo! Una Coca-Cola! Ecco a te, casa! Wow! Siamo saliti di livello! Oh! Bene! Arrivederci! Oh! Ma dove vai? Ehi! Siamo qui! Aiutatemi a recuperare la vista! Ma certo! Ti aiuteremo! La pistola della gente mi ha accecata! Non vedo più niente! Ok! Non preoccuparti! Sistemeremo tutto! Eccoci qui! Pronta! Stai ferma! Oh! Fantastico! Ora posso vedere di nuovo! E posso guardare in tutte le direzioni con una visione a 360 gradi! Felice di averti aiutato! Oh! Non posso stringerti la mano! Qualcosa non va nelle mani! Oh! Sposta gli occhi indietro! Ok! Ci penso io! Voilà! Va meglio? Molto meglio! Grazie, dottoressa! Stammi bene! Oh! Che cos'è? Una lampadina! Mettiamola nella casa! Ottima idea! Ecco a te, casa! Wow! Abbiamo raggiunto un altro livello! Oh! Ma che succede? Dobbiamo spegnere il fuoco! In fretta! Controlliamo la temperatura! Oh no! Sta bruciando! E sembra grave! Andiamo dentro! Troom trick! Ah ah! Ne ho abbastanza! Non ce la faccio più! In fretta! È lui la causa dell'incendio! Troom trick! Se continua così esploderò! Che succede? Puh! È scarico! Ho un'idea! Troom trick! Uh! Chi è stato? Lo sapevo! Siete nei guai! Calmati! Oppure te ne pentirai! Come lo riempiamo? Oh! Ci sono! E ragazzi, aiutateci a riempire l'estintore! Per favore, mettete un like! Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Per favore, mettete un like! Abbiamo davvero bisogno di voi! Non muoverti! Fantastico! Continuate! Grazie! Grazie mille! E ora spegniamo il fuoco! Troom trick! Ha ha! Ottimo lavoro! Ah! Mi avete calmato! Grazie! Senza di voi sarei bruciato! Siete i migliori medici di sempre! Uh! La mia gamba! Uh! Per favore, non lasciarlo andare! Ah! Che bella sensazione! Uh! Siamo arrivati in tempo! Wow! Cos'è quel pulsante? Lo premerò solo una volta! No! Non farlo! Oh! Visto? Ti avevo avvertito! Ah! Sto bene! Oh no! La mia mela! Si è rotta! Fammi dare un'occhiata! Ehi! Ma dove sono andati? Troom trick! Esaminiamo la mela! Aiutatemi ragazzi! È terribile! Non possiamo lasciarla così! Non preoccuparti! Mi prenderò cura di te! Mettiti comoda! E ora prepariamo la macchina! Dottoressa! Io credo in lei! Oh no! Dobbiamo sbrigarci! Iniziamo l'operazione! Rimuoviamo tutte le parti non necessarie! Un attimo! Quasi fatto! Ora rimuoviamo i resti! Fatto! Colleghiamo le metà e ricuciamo! Bastano pochi punti e sarai come nuova! Mi sento molto meglio! Delight, guarda! Non posso crederci! Mela! Ehi! Ridateci la mela! È una nostra paziente! Torna qui! Dottoressa, lei è fantastica! Qual è il suo problema? Ce lo dica! Il fatto è che mi prude la schiena! Che incubo! Non devi stare troppo vicino ai bersagli! Dobbiamo rimuovere le frecce! Credo di avere un piano! Ehi casa! Puoi aiutarci? Ed ecco il tabellone! Fantastico! E possiamo giocare! Stai fermo, Aggie! Questa è l'ultima! Fantastico! Ora il nostro paziente è al sicuro! Grazie! E-e-ciu! Vuoi un giocattolo? È fresco! Che sacrificio! Aus! Prendilo! Uh-huh! Un altro livello in più! Fantastico, dottoressa! Aiuto! Uh-huh! Te la sei cercata! Uh-huh! Non lo faccia! Sono così arrabbiata! Siete tutti nei guai! Uh-huh! Ops! Chi è il prossimo? In fretta! Prendiamola! Uh-huh! Sì! Delight, dammi questa mazza! Qualcuno potrebbe farci male! Dobbiamo scoprire che succede! Il battito cardiaco è elevato! E anche la respirazione! Ma certo! Ha bisogno di un reset! Oh! Delight, tutto bene? Che è successo? Grazie! Mi hai salvata di nuovo! Ciao! Oh! Il tuo piede! Non preoccuparti! Non è niente! Oh! Oh! Tieni duro! Ti aiuto! Che c'è che non va? So cosa fare! Vieni fuori! Puoi farcela! È troppo profondo! Casa, puoi aiutarmi? Ma certo! Trum trick! Grazie, amico! Se lì mi amo, non farà più male! Wow! Ha funzionato perfettamente! Uh! Pessima idea! Oh! Oh! Ma che succede lì? Non preoccuparti! Andrà tutto bene! Lo fascerò! Ok! Ora va molto meglio! Ah! Ma ancora male! Sul serio? Aspetta un attimo! Ehi, Hoppy! Ciao! Ma dove sarà? No! Questo non va bene! Ma che sta succedendo? Uh! Una barretta di cioccolato! Uh! Forte! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente l'ho trovato! È perfetto! Le piacerà tantissimo! Gnom! 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 Ma che succede? Non riesco a stare in piedi! Che facciamo adesso? Aspetta un attimo! Ehi, Poo! Guarda che cosa ho trovato! Ora sarà più facile spostarsi! Wow! Forte! Ora va molto meglio! Uh! Sto cadendo! Devo stare attenta! Uh! Ops! Ho dimenticato qualcosa! Ma certo, Hoppy! Solo un attimo! Sto arrivando! Dottoressa, mi aiuti! La mia carota! Me la dia! Non riesco ad alzarmi a causa dell'orecchio! Va bene, ora ti aiuto! Ecco la tua carota! Buon appetito! Oh! Le sono così grato! Felice di essere stata utile! Ciao! Un attimo! Sì? Che succede? Forse puoi aiutarmi anche con l'orecchio! Oh, certo! Vediamo cosa abbiamo qui! Questo no! Questo potrebbe tornare utile! Non stavolta, però! Mi ero quasi dimenticata di te! Che dolce! Va bene, cos'altro abbiamo? Perfetto! Un blaster che riduce le dimensioni! Predisponiamolo e... Iniziamo! Hoppy, sei pronto? Per favore si sbrighi! Va bene? Sorridi? Dottoressa, la pagherò qualsiasi cifra! Oh, una pioggia di soldi! Troom trick! Il mio orecchio! Ora è troppo piccolo! Non funziona! Mi serve di dimensioni normali! Nessun problema! Troom trick! Che bello! Grazie! Ed ecco la sua ricompensa! Grazie, Hoppy! Te ne sono molto grata! Wow! È un'altra matita! Fantastico! È perfetta per la mia mazza! Sono così fortunata! Ecco a te, piccola! Oh, Freddy! Oh, dottoressa, me li tolga di dosso! Più in fretta che può! Non ce la faccio più! Tieni duro! State lontano da Freddy! Fai attenzione! Oh, presa! Un'altra! Prendi questo! Ce l'abbiamo quasi fatta! Grazie mille! Ora sembra incastrato in me! Vediamo! Oh! Non preoccuparti! Oh, facile a dirsi! Chica si prenderà cura di te! Ragazzi, non scherzate mai con le api! Possono essere pericolose! E ora affronchiamole! Non muoverti! Trum trick! Uh, che male! Dobbiamo solo rimuovere tutto il veleno! Ancora un po'! Fatto! E ora un cerotto! Guarirà presto! Oh, che dolce! Dottore, lei è miracolosa! Grazie! Oh, aiuto! Ehi, ma di chi è questa voce? Ascoltiamo! Ah, strano! Oh no, c'è qualcuno! Potrebbe essere un bambino? Wow! Credo che dovremmo far uscire il bambino! Forza, piccolo! Ehi! Aiuto! Solo un attimo! Ti tiro fuori! Oh, allora sei stato tu a mangiarmi! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Questo è per avermi salvata! Beh, grazie mille! Ciao! Ora stai molto meglio! Freddy? Un attimo! Dov'è la mia testa? Pronto? Cosa? Sto arrivando! Allora, chi ha bisogno di me? Oh, oh! Perdente! Andate via! Forza, vieni qui! Ehi, che state facendo? Siamo i ragazzi più fighi in circolazione! Facciamo come vogliamo! Allora anch'io lo farò! Oh, è pazza! Ho solo bisogno di qualche donatore! Siediti! Ho paura! E adesso che farà? Ora lo scoprirete! Trum trick! Oh, aiuto! Vi sta bene! Anzi, benissimo! Per favore ci perdoni! Scappiamo subito! Non abbiamo ancora finito! Allora, continuerete a creare problemi? No, faremo i bravi! Fantastico! Questo è per lei, signorina Delight! Uh, vedo che state maturando! Grazie! Miss Delight, non la dimenticheremo! Oh, no! Non fatelo! Addio! Che cattivoni! Sono tutta bagnata! Non ci credo! Sono persino riusciti ad entrare nel mio cappello! Beh, almeno ho la matita! Chi è? Signorina Delight, per favore mi aiuti! Uh, sei tu! Ma certo, ti aiuterò! Diamo un'occhiata alla temperatura! Oh! Non preoccuparti, solo tre secondi! Vediamo! Uh, so qual è il tuo problema! Possiamo rimediare! Che vuol dire? Ora va meglio! Dove sei? Non avrai più bisogno degli occhiali! Apri bene gli occhi! Troom trick! Wow! Che figo! Grazie! È troppo presto per gioire, tesoro! È arrivato il momento di un restyling! Sì, facciamolo! Sì, facciamolo! Allora andiamo! Mi sto divertendo un mondo con te! E ora facciamo l'acconciatura! Vediamo dove posso trovarla! Forse qui? Uh! Porta sbagliata! Forse qui? Uh, è occupato! Ops! Scusa, tesoro! È stato imbarazzante! Uh! Questo è l'armadietto di Kissy! Guarda! Wow! Che parrucca perfetta! Oh, pensavo non ce l'avremmo fatta! Aspetta! Non è tutto! Dobbiamo migliorarla un po'! Esattamente! Oh, penso stia venendo fuori benissimo! Fatto! E ora proviamola! Wow! Mi piace tantissimo! Fantastico! Ora possiamo spuntare un'altra voce! Fatto! Sei una ragazza così intelligente! Attenzione! No, non così! Mr. Light è veramente cool! Guarda, ho un regalo per te! Fammi vedere! Wow! È molto carino! Possiamo aggiungere qualcosa? È una figata! Aggiungiamoli! Eccellente! Un po' di colla e avremo un grande collage! Guarda questi adesivi! Che ne pensi? Oh, questo no! No, il mio disegno! Scusa, tesoro! È stato un incidente! Non preoccuparti, sistemerò tutto! Ho un'idea! Sorridi! Ora saremo come due gemelline! Ti stanno benissimo! Ti piacciono? Certo! E ora dobbiamo pensare al trucco! Un altro punto è completato! E ora passiamo alla mazza! Mmm, presa! Tieni questo! Torno tra un po'! Ci vediamo! Per favore, lasciami in pace! Non ti ho fatto niente! Non muoverti o sarà peggio! Allora che succede? Aghi! Questa volta la colpirò! Prendi qua! Perché? Ecco, Aghi! Sei nei guai! Ah! Ne ho ancora! Cosa deve essere la mia immaginazione? Lanciamo! Sorpresa, Aghi! Oh, scusa! Non lo farò mai più! Troppo tardi! Per favore, no! Non farai più male a nessuno! Oh, che paura! Non lo dimenticherai più, eh? Ah, di che stavamo parlando? Wow, penso di poterlo usare! Ma certo, il bambino ha bisogno di una mazza! Sembra perfetto per la base! E ora il trucco! Fantastico! Il manico è pronto! E ora servono le punte! Via le piume! Ecco quello che serve! Tagliamole a metà! Troom trick! Meraviglioso! Le incolleremo con la pistola per colla a caldo! Vediamo! Sta venendo benissimo! E ora il resto! Fatto! Proprio come la mia! Ora sono due volte più pericolosa! Vai, piccola! Guarda che ti ho portato! È quasi asciutto! Oh, Mr. Light! Ecco a te! Wow, che bella mazza! Ora non ho più paura di nessuno! Grazie! Tesoro, fai attenzione! Potresti farti male! Aspetta! Ma... La sicurezza prima di tutto! Un casco! Ora ho anche la protezione! E non è abbastanza! Ora va meglio! Sei pronta per l'addestramento! Attenta alla mazza! Troom trick! Una mazza boomerang! Ora tocca a te! Ho capito! Troom, troom trick! Piccola, fermati! Persino io ho paura di te! Un solo colpo basterà! Ok! Troom trick! Wow! Abbassati! Il mio scivolo! Ma che cos'è? Che forza! C'è qualcuno qui? Lo prendo io! Oh, caglia! Ti piace? Hai sicuramente del talento! Ma fai attenzione! Grazie! Tutto questo va bene! Ma credo che dovremmo ripulire questo casino! Oh, ho tanto sonno! Allora vai a dormire, cara! Oh, ci è mancato poco! Shhh! Ora io pulirò! Oh mio Dio, quanta polvere! E giù! Io d'armo! E giù! Oh, che forza! Così farò solo più caldo! Casino! E giù! Che è successo? Stai bene? Scusa, non volevo svegliarti! Eccoli! Hai sentito? Hai sentito questo odore? Oh no! Non cut up! Beccata! Stai lontano da me! No, tu verrai qui! Mr. Light, si svegli! Ragazzi, per favore! Mettete un like a questo video! Dobbiamo svegliarla! Vieni qui! Sbrigatevi, vi prego! Mettete un like e mi prenderà! È ora che tu vada nel sacco! Oh! Ragazzi, ancora un po' di più! Vi prego! Questo no! È ora di andarsene! Ehi, un attimo! Dove è andato? Ecco, è andato da quella parte! Ecco qua! Sei nei guai! Aspettami! Sei di nuovo alle prese con vecchi trucchetti? Prendi la palla! Di che hai paura? La forza, vai! Ti prego, no! Ho paura! Rilassati! Tre punti! Oh! Beh, esilarante! Non ce la faccio! Bene, bene, bene! Stavamo solo giocando! Beh, ciao! Giochiamo anche noi! Ok! Ora guarda e impara! Sono una maestra del dribbling! Ti darà un vantaggio! Ok! Wow! Lanciamo! Wow! L'hai mancato! Perdente! Non è poi così forte, vero? Non è giusto! Non ridere, hai vinto tu! Che meschino! Grazie mille! Come faccio a dimostrarti la mia gratitudine? Oh! Vuoi un top? Prendi questo! Grazie! Oh! Molto utile! Nessun problema! Ciao! Piccola! Dove sei? Penso che sarà molto felice! Ciao! Oh! Ero già in pensiero! Guarda che cos'ho! Che bello! È un top come il tuo! Ma ora è il tuo! Forte! Spuntiamolo dalla lista! Fatto! E ora mangiamo! Eccomi! Oh! Buon appetito! Anche a te! Ops! Sembra che abbiamo fatto un po' di casino! Dobbiamo ripulire tutto! Aspetta! Oh! Un'idea! Manichino! Vieni con me! Perfetto! E ora facciamo una gonna con un modello originale! Che sta facendo? Ora ti farò una gonna a buà proprio come la mia! Un po' di vernice e sarai la regina della moda! Uh-huh! Ecco fatto! Ancora un po'! Oh! Interessante! Tesoro! Guarda che bella! Vuoi provarla? È proprio della tua taglia! Provala! Wow! Mr. Light! Te la hai! È fantastica! Grazie mille! Ora la gonna è sistemata! Che resta? Il fiocco! Trum trick! Che ne pensi? Ha trovato il tessuto! Fantastico! Torna subito! E poi gliel'ho fatta vedere! Bam! Wow! Speciale! Andiamo a fare uno scherzo a qualcuno! Incogliamo le dita dei nerd! Però aspetta! Ho un'idea migliore! Ehi! Sbrigati! Arriva qualcuno! Corri! Un attimo! Dov'è il fiocco? Guarda la signorina Delight! Ho un ricordo che l'avevo messo nell'armadietto! Forse è qui? Sì! C'è cascata! Qui? Chi è stato a fare questo? Forza! Staccati! Sì! Ce l'abbiamo fatta! E ora corri! La mazza prendila! Ehi! Perché è così pesante? Non riesco a sollevarla! Ma che aspetti? Vuoi aiutarmi? Ma certo! Ti aiuto! Che ingenui! Ha funzionato! Continua e ora fallo! Non ce la faccio! Scusa! È stata la mazza! Che imbarazzo! Ma sei vivo? Non riesco a controllarla! Oh! Sogni d'oro, ragazzi! State lontano dalla mia mazza! Ciao, ciao! Tesoro, sono qui! Guarda, ho fatto una cravatta! Wow! Sei stata così brava! Oh, ti sta bene! Spuntiamo un'altra voce! Sono pronta! Fatto! Wow! Bravissima! È ora di insegnarti la cosa più importante! La camminata zombie! Wow! Proviamola! Ti spiego tutto! Prendi qualcosa di pesante, allunga le braccia e trascinati dietro! Hai capito? Così? No, non proprio! Tieni le braccia dritte! Ok! Va meglio ora! No, troppo dritte! E allora come? Ci sono! Con i pesi sarà più semplice! Ti aiuteranno! Oh, mio Dio! Prova! Oh! Oh! Oh, sei senza speranza! Sì, ce la posso fare! No, non c'è bisogno di ripeterlo! Ripeti la mia espressione! Così? Incredibile! Sei brava! D'accordo, ti sei guadagnato un'altra spunta! E ora riproviamo! Ok! Stai andando alla grande! Ehi, rossa! Cerchi i guai! Vi prego, non fatelo! Poveri libri! Ehi, che c'è? Eccomi qui, ragazzi! Peggio per voi! Cosa? Miss Delight si è clonata! Forza, tesoro! Credo in te! Ricorderanno questo giorno per sempre! Questo sarà il loro incubo! Che succede qui? Troom trick! Abbassati! Non potrai nasconderti da me! Ho paura! E adesso che facciamo? Si avvicina! Ecco, tesoro! Vai! Ti prego, non colpirmi! Dobbiamo scappare! Non ci riuscirete, ragazzi! Cosa? Miss Delight! Pensavate che mi fossi dimenticata di voi? Alzatevi! Che succede? Per favore, basta! Forza! Allora che ci farà adesso? Dai! Toglietevi questi stracci! Fantastico! Ora tutti i bulli rideranno di noi! E ora mettetevi a pulire! Cosa? Ed è meglio se vi impegnate, perché io vi controllerò! Di più! Miss Delight, puoi controllare! Disgustoso! Voglio lanciargli là addosso! Cosa hai detto? Niente, scusa! Perfetto! Ben fatto! È una A! Grazie! Oh, a proposito! Oh, grazie il piacco! Darà una lezione a quel nerd! Non pulisco da solo! Qui si sta bene! Dov'è il nostro piccolo ospite? Qui? No! Forse qui? Oh, no! Dov'è andata? Ti troverò! Oh, no! Pensavo che non sarebbe tornato! Spero solo che non mi trovi! Che devo fare, Kissy? Oh, è così spazioso! Non facciamoci trovare! Me la vedrò io con lui! Penso che se ne sia accorto! Ciao! Oh, no! È gosso! Non mi sento tanto bene! Tutto qui? Vorrei poter raggiungere l'arma! Lo affronterai facilmente! Ho capito! Prendilo! Un pirillo? No, serve un'altra arma! Ok, ora te la do! Un pollo? No! Ok, ora basta! Oh! C'è qualcosa che non va? Ma che state facendo? Ho chiesto un'arma! Perché non la vedi? Oh, avresti dovuto dirmelo! Continuiamo! Avanti! Con piacere! Allora, questa! Prendila, Kissy! Una palla! Ma stai scherzando? Oh, una palla! Ora ti prendo! Cosa? Ha funzionato! Oh, ci è mancato poco! Cut nap! Oh, me! Ok, ti lascio stare! Ottimo lavoro, tesoro! Chi si torna qui? Non così in fretta! Oh, no! Spero che non se ne accorga! Sono tornato in pista! Dov'è Cut nap? Che schifo! Niente di utile! Oh, sei nuovo! Oh, spostati! Che maleducato! Ti insegnerò le buone maniere! Wow, che braccia! Non tirarle! Limbo! Ce l'ha fatta! Pensi che voglia giocare con te? Assolutamente no! Uh! Mi sono incastrata! E tu? Saresti intelligente! Non osare ridere di me! In realtà sono dalla tua parte! È chiaro? Sì! Ora lasciami andare! Hai portato Aggie con te? È fantastico! E ora stragliati! Ma che stai facendo? Ora lo scoprirai! Ray, vieni qui! Ehi, forse non dovresti! Oh, sì che dovrei! Troom trick! È venuto benissimo! Oh, sì! Ora ho ancora più poteri! Ho finito con Kissy! È rimasta solo la ragazza! Ma dove si nasconde? Vieni fuori! Avanti! Vuoi che sia gentile o no? Che sonno! Ma non posso addormentarmi! Devo resistere! Ragazzi, vi prego! Mettete un like a questo video! Ho bisogno di tanti like per non addormentarmi! Uh! Grazie! Sta funzionando! Continuate così! Ha funzionato! Il fumo non mi fa più paura! Bene, bene! Credo di aver sentito qualcosa! Non preoccuparti, tesoro! L'aiuto sta arrivando! Uh-huh! Oh! Mi prendi in giro? Non fai paura! Non funziona così! Ma che vuol dire? Allora rifacciamolo! Ti distruggo! Non funziona così! So che non sei aghi! Guarda, avanti! Cosa? Ma come hai fatto? Ops, non sono riuscito a distrarti! Buona giornata e bla bla bla! Ma perché? Ciao, ciao! Mi ha smascherato! Il piano è fallito! E adesso che faccio? È da tanto che ci provo! Oh no! Che è successo? Mi ho sconfitto! Che piagnocolone! Ok, ho qualcosa per te! L'ho preparato io stessa! Su un foglio di cartone disegniamo la sagoma della mano! Ma molto più grande! Poi ritagliamola! Troom trick! Ripetiamolo anche sulla plastica! E ora dipingiamoci sopra! Proprio quello di cui aghi ha bisogno! Perfetto! Guarda! Non servirà niente! Oh, che cattivo! Mettiamo questo nastro sul polso e aggiungiamo qualche elemento! Quasi fatto! Troom trick! La mano armata è pronta! Accendiamola! Fantastico! Avrà bisogno anche di questo! Ma che cos'è? Questa è l'arma perfetta! Quella è per me! Che bello! Non vedo l'ora di provarla! Wow! Ora sarò invincibile! Puoi anche giocare a Patty Cake! Ora sono pronto! Catnap! Attento! Ma ricordati! Devi fare attenzione al gas! Ho capito! Grazie mamma! Bene, bene! E dov'è Catnap? Ora dovrà avere molta paura di me! Attiriamo la sua attenzione e poi mi occuperà di lui! Sorpresa! Allontanati! Non potrai vincere! Questo lo vedremo! Il tuo gas non funziona con me! Oh! Questo segno! Credo di sapere cosa fare! Troom trick! Non può essere vero! Ah ah! Ti sta bene! Aggiungiamo qualcos'altro! No! Questo no! Aiuto! Ti piace? Ecco Catnap! Il gioco è finito! Oh! Non mi prenderai perdente! Bosta così! Sei stato solo apportunato! Prendimi se ti riesci! Questo è scandaloso! Devo dargli una lezione! Torna qui! Ma dove è andato? Che bello! È caduto in trappola! Oh oh oh! Ma dove sono tutti? Wow! Che cos'è questo? Forte! Un tiragraffi! Oh! Che bello! È così bello! È funzionato! È la nostra occasione! Non muoverti! Ora tocca a me! Oh! Attenzione! Lasciami andare! Non se ne parla! Occupati di lui in fretta! Oh! Te la sei cercata! Un pugno da mille palme! Lo terrò io! Fermati! Basta così! Vi dimostrerò chi comanda! Oh! Che male! E tu sei la prossima mamma! Oh no! Ti piace? Non ti lascerò andare! Devo occuparmi della ragazza! Scommetto che non è andata lontano! Tempo di caccia! Spero solo che Daddy stia bene! Dove sei piccola? Devo fare qualcosa! Ho un'idea! Topo! Vieni qui! Ora sarà peggio per te che Fnap! Avanti vai! Spero funzioni! Cos'è? Un topo? Vieni qui! Ti prenderò! Oh! Non è nemmeno così spaventoso! Miau! Chissà se gioca con il laser! Una luce! Che carina! Vieni qui! Ehi! Ma dove stai andando? Oh! Oh! Sciocco! Non potrai scappare! Vieni qui! Aspetta un attimo! Eccoti! Oh oh! È ora di andare! Oh oh! Basta! Aiuto! Stai scappando da troppo tempo! Ma ora ti ho presa! Lasciami! Non farlo! È troppo tardi! Di addio alla vita piccola! Troom trick! Come farò a liberarmi? Ha funzionato! Ti piace questo? Oh oh! Oh oh! Non vale! Di nuovo! È divertente! Oh oh! Cosa? Di nuovo! Oh! Bene! Ma oh oh! Ma che cos'era? Ok! Finalmente ti mangerò! Oh oh! Che delizia! Ora non ho più fame! Oh! Che mascalzone! Ridammi subito a mia figlia! Conto fino a tre! Oh te ne pentirai! Oh oh! Quindi sei tornato! Prendi questo! Sfigato! Te la sei cercata! Ma cosa hai fatto? Te ne pentirai! Oh oh! Lasciami andare la mia faccia! Oh oh! Ehi! Chi è stato? Oh oh! Ma che sta succedendo? Questo no! Per favore non farlo! Fermati per favore! Oh oh! Papà! Svegliati! Dove sono? Oh cosa? Era solo un sogno! E Catnap se n'è andato? Oh! Che sollievo! Sono così felice che tu stia bene! Ho un regalo per te! Spero ti piaccia! Grazie papà! Questa Barbie è bellissima! Oh! È anche una sirena! Wow! Che bella! Saremo migliori amiche! E tu Ladybug! Puoi anche riposare per ora! Ciao! Dove sono? Non riesco a respirare! Ho bisogno di 10.000 like per aprire la scatola! Ragazzi aiutatemi per favore! Mettete un like a questo video così potrò andarmene! Vi imploro! Credo stia funzionando! Vi prego un po' di più! Vi prego sbrigatevi! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Sono libera! Ed ecco la maschera d'ossigeno! Sono salva! Grazie ragazzi! Voi siete i migliori! Oh! Piccola! Sono qui! Ehi! Mi senti? Sei forte! Vuoi nuotare? Ladybug! Presa! Non disturbarmi! Wow! E tu che ci fai qui? Ah! Potresti aiutarmi! Ho un'idea! Se divento una sirena potrò uscire da qui! Devo solo completare la lista! La prima cosa è il trucco! Fantastico! Per prima cosa togliamoci la maschera! Oh! È orribile! L'acqua mi ha lavato via tutto il trucco! Un ottimo motivo per provare questa! Che bello! Forza più in fretta! È il momento di truccarmi! Aha! Ora nessuno mi riconoscerà! Non è adorabile? Ehi! Che ne pensi piccola? Guarda! Sei così divertente! Ma che cos'è? È ora di lavarsi i denti! Oh mamma! Ma io non voglio! Sono sicura che le piacerà! Vediamo che devo fare adesso! Penso di poterlo fare! Però mi piace la mia acconciatura! Tanto non me li spacciolo! Che è stato? La mia testa! Cos'è che non va? Fa male ed è appiccicoso! Ma potrebbe tornarmi utile! Devo solo passarmi questo tra i capelli! Ora va molto meglio! E lo userò anche per lavarmi i denti! Sembreranno dei diamanti! Fantastico! Sei il mio giocattolo preferito! Aspetta! C'è qualcosa che brilla! Ho un'idea! È ora di andare a pescare! Ma non spaventare i pesci barbi! Mi sta perseguitando! Qualcuno mi aiuti! Dove mi nascondo? L'ho schivato per un soffio! Oh no! Sta tornando! Questo no! Non sento più la terra sotto ai piedi! Credo che questa sia la mia occasione! Devo raggiungere quelle forbici! Ladybug! Io-io! Appena in tempo! Ora posso finalmente uscire da qui! Ciao ciao! Uh! È stato spaventoso! Qual è la prossima cosa da fare? Uh! Il top da sirena! E con cosa posso farlo? Uh! Ma certo! Ha del tessuto! Decoriamolo con delle paillettes! Sembreranno squame di pesci! Rimuoviamo tutto quello che non serve! E colleghiamo le forme tra loro! Solo che manca qualcosa! Colleghiamo anche le perline nere tra loro! Grande! E ora posso aggiungere i miei pua neri! Room trick! Oh! Ho bisogno di altri pua! Oh! Penso che questi siano sufficienti! Mi sta davvero bene! E adesso? Ma certo! La coda! Beh! In effetti non ce l'ho! Forse c'è qualcosa qui dentro? Wow! Questo è quello che mi serve! Sembro già una sirena! Niente male! Oh! Questo fa male! Oh! Devo lavorare sulla mia coda! Oh! Ma certo! Colleghiamo le gambe in una pinna? Ho un'idea! Oh! Avvolgiamo le zampe e dipingiamole di rosso! Dovrebbe funzionare! Fantastico! Ed ecco che arriva la vernice! Proviamola! Wow! È meglio di quanto pensassi! Questi pua staranno benissimo sulla mia coda! Così! Un altro paio e il gioco è fatto! Perfetto! Ok! Ce l'ho fatta! Ehi piccola! Guarda il mio outfit! Sei la mia migliore amica! Sei così divertente! Piccola! Devi badare al pesce! Ehi! Oh! Che cattivo! Vattene! Brutto! Oh no! Non questo! È un vero mostro! Un paio di calci e la vittoria è mia! Ma come posso fare con la coda? Oh! Devo cambiare tutto il piano! Oh! Ciao Sebastian! Ciao! Hai bisogno di aiuto? Oh! Vuoi davvero aiutarmi? Diciamo che non mi sento a mio agio con un vicino del genere! Prendi le mie chele! Oh! Le posso prendere! Grazie! E ora mi occuperò di lui! Adesso non ho più paura di niente! È ora di dare una lezione a quel piragna! Lascia che ti mostri il kung fu subacqueo! Vieni qui! Ha! L'ho battuto! Grazie Sebastian! Ci hai salvati! Dove le hai prese? Cosa? Puoi vincere un premio? Beh! Proviamo! Spero di non sbagliare! Troom trick! Oh no! Come hai fatto a vincere? Non lo so! È solo fortuna! Io non sono molto fortunata oggi! Un attimo! Uno yo-yo! Troom trick! Ha funzionato! Wow! Ma che c'è qui dentro? Che bella collana! Devo provarla! Troom trick! Wow! Mi sta molto bene! Che ne pensi? Ci sono anche degli orecchini! Staranno benissimo con il mio vestito! bello, no? Fantastico! Un altro punto completato! Ho tanta fame! Nalghe! Che schifo! Chiamiamola consegna! Pronto! Vorrei una consegna all'acquario! Oh, ciao! Eccomi! Credo di essere all'ingrizzo giusto! Ok, adesso... Che strano! Un attimo! Ha parlato dell'acquario! Signora, salve! Ecco la sua consegna! La ciambella è ancora calda! Tieni! Wow! È così grande! Ma tutto qui! E anche un macaron! Wow! E questo lo apre la casa! Oh, yummy! Wow! Che pancia! Questo non va bene! Ah, ora va meglio! È il momento di pagare! Questi sono per te! Hai contanti? Oh! Sei il mio miglior cliente! Meglio lasciarsi qualcosa per i tempi duri! Ehi, piccola! Sono qui! Eccomi! Guardami! Lasciami in pace! Aggivattene al bagno! Scribidi-dub-dub! Scribidi-dub-dub! Scribidi-dub-dub-dub! Scribidi-dub-dub-dub! E tu chi sei? Oh no! Sto per cadere! Ti sei perso? Che mascalzone! Beh, sai che farò? Prendi qua! Ma la mia acconciatura è comunque rovinata! E adesso che faccio? Un attimo! Cos'è quello? Ah, credo che questo sia un normale casco! Oh, ma che c'è qui dentro? Wow! Questi cristalli creeranno qualcosa di interessante! Li incollerò sul cerchietto con la colla a caldo! Sembra perfetto! Bene, continuiamo! Ora aggiungerò anche delle perline nere! Troom trick! Wow, che bella collana! Ottimo! Incolliamolo bene! Ora va molto meglio! E adesso proviamolo! Wow, che bello! Ora nessuno mi rovinerà i capelli! Dov'è il bagno, Huggy? O vuoi fare a botte? Avanti! Oh, Barbie hai vinto! Andiamo a festeggiare! Che peccato! Non lascerò le cose così! Mi vendicherò! Con questo tridente nessuno potrà fermarmi! Granchio, sei tu? Hug what? Ops! Ehi! Ciao! Che ci fai tu qui? Ho un'offerta per te! Ogni sirena deve avere un tridente! Beh, questo è un po' strano! Di che stai parlando? Guarda, è sulla tua lista! Oh! Allora hai ragione! Ma me ne restano solo vedi! A fare fatto! Io prendo il bagno! Oh! Ma sei sicuro? Sì, lo prendo! Ciao! Wow, che bello! Uh! Super cat, sei tu! Oh, che orrore! È stato catturato! Non aver paura! Ci sono io qui! Non ho abbastanza ossigeno! Sbrigati! Ok, solo un attimo! Non posso! Ce l'avevamo da qualche parte! Ma certo! Credo di aver capito! Devo fare in fretta! Respira, gatto! Un respiro profondo! Come va? Oh! Mi iniziavo a preoccuparmi! E soprattutto che ci fai qui? Ladybug! Questo anello è bellissimo proprio come te! È per me! Non posso credere ai miei occhi! È così bello! Grazie! Lo adoro! Ed è così brillante! Un attimo! Chi è? Uh! Che male! Ok, attenzione! Trum trick! Wow! E se organizzassimo una festa? Bene! Ecco! E ora vai! Oh! La mia maschera dov'è? Qui non c'è! Forse... Oh! Perché? Eccola! Mi sei mancata! Ora aggiungiamo un po' di magia! Forte! E ora sono una Ladybug subacquea! Mi sento una vera sirena! Un attimo! Ma se ho il fridente significa che il mio costume è completo! Oh! Ma che succede? È di nuovo un piragna! Trum trick! Prendi questo! Woohoo! Ehi piccola! Guardami! Ora sono una sirena anch'io! Sono qui! Guarda! Oh no! Cosa sono queste correnti sotterranee? Perché sono così sfortunata? Questa bambina ha bisogno di me! Ladybug non ti aiuterà! Troppo tardi! Nessuno potrà salvarti! Questo non va bene! Verrò ad aiutarti! Ladybug! Non aver paura! Ladybug è qui! Siete nei guai, cattivoni! Nessuno può resistere alla bug ball! Wow! Grazie! Sono salva! Tesoro! Stai bene! Spero di non essere arrivata tardi! Guardati intorno! Ora sei in trappola anche tu! Ecco! Nessuno potrà fermarci ora! Senza i suoi poteri Ladybug non è una minaccia! Oh! No! Ladybug ora è solo un insetto! Oh! Fa caldo! Wow! È una bug ball! Che succede? Prendi subito quella palla! È meglio se me la dai! No! Per favore! Oh no! Ora siamo nei guai! Wow! Che è successo? Tesoro! Mi hai salvata! Non aver paura! Ora anche tu hai il potere di Ladybug! Devo insegnarti tutto quello che so! Zainetto di Ladybug! Wow! E non hai ancora visto che c'è qui dentro! È un manuale su come diventare Ladybug! Ti aspetta un duro cammino! Spero che tu sia pronta! Ma certo! Lo sogno da tutta la mia vita! Sono così felice! Iniziamo dagli orecchini! Ok! Ma quando avrò i superpoteri? Oh! Non volevo! Scusa! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti!